Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Benvenuti in questa nuova banda! Come avete potuto imparare il titolo? Farò una modiglutin mia insieme a Gabriella! No, 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 no! Come? No! Non credo! Come lo facevamo? Ok, avremo questo! Ok, cambiamo l'unboxing di due uova! Tutte due uova! Ma da dove sei comparsa? Sì, chi lo sa per mai? Bene! Questi sono per me! No, la mia di Sonic the Joker! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Io sono Darden! Io sono Aurora! Del mondo di Davide Aurora! Come avete potuto... Buona Pasqua a tutti voi! Come avete potuto puntare dal titolo? Sì! Apriremo le uova! Il Signore degli Anelli e Sonic! Son son! Son! Bene ragazzi! E se... Via! Oggi... Facciamo... Questo è per Davide! Sì! Questo è il Signore degli Anelli e tutto mio! Ma Sonic è più bello! Allora... Apriamo queste uova! No abbiamo prima... Prima... La tua! Ok! Ciao Signore degli Anelli! Mettiti qui... Al centro! Sempre sto scotch! Se ne vai? Dammi! Tu sei troppo debole! Come scusa? Non ci riesco! Prendi quella carta che avevi appena buttata! I sapori aggiori! Non si apre aiuto cameraman! Ecco qui! Ragazzi ci facciamo aiutare dal camera! Vabbè! Iscrivetevi al canale! Non ti rompiamo! Ragazzi! Apriamo! Piano che ho fatto un letto! Piano! 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 Ma lo rompiamo ragazzi! No aspetta! Non è tuo! Insieme! Vabbè l'ho rompito! Sei! Due! Uno! Non si rompe perché il letto è morto! No! Si! Prendi la tua sorpresa! Buonissimo! Cameraman Edison! Che cos'è? Che cos'è? No! Ho capito! Da l'altra parte! Non di là! Sopra! Sopra! Verso l'alto! Che? L'alto! Due! Alto! Via! Uno! Un po' Ha! 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 Ho! però con quelle Kinder non si compie cioccolato della Kinder un po' troppo dolce preferisco questo come cioccolato ma le sorprese sono le migliori della Kinder ci manca qualcosa Davide bene ragazzi il video finisce qui aspetta il nuovo dei signori degli amici il mio allora è noto il mio niente non è più bello perché c'è il filo dorato non è bello vedo è più facile da aprire ti tiro questo addosso il potere di Sonic che è il filo come ho lì anche il cioccolato sembra molto più grande c'è questo cerchio sotto ora capito non è bello dai ci penso io no ci penso io basta il cioccolato oh la sorprese non c'è ah eccola no bella mia che cos'è che bella no ora ve la facciamo vedere è una spilletta riguarderà qualcosa del film se voi lo sapete scrivetecelo nei commenti perché noi non ne abbiamo idea e io non guardo il signore degli anelli io sì il signore degli anelli ragazzi è il libro preferito di nostra madre quindi è anche il mio preferito le piace un sacco e la voglio bene a chi non la vuole bene tu un serpente serpe verde c'è un serpente sul cioccolato ah questa sorpresa e basta quello è il simbolo della porta della città e gli gnomi gnomi gnmosi gnomi gnoli gnomi gnoli gnomi gnoli come sono spiritosa bene ragazzi adesso basta dopo lo raccogliamo bene bene ragazzi no devo aprirla ah puoi consultare la tua pozza urk non sa di cioccolato eh lo so è plastica e adesso 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 e spero che vi sia piaciuto il video e noi ci vediamo al prossimo ah 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 vuoi te lo lancio a mia?